ciao in attesa di fulmonti io stasera vi farò vedere alcuni alcuni segni gangsta alcuni che mi hanno insegnato non so se veranno bene ma comunque spero che vi piacciono allora questo è w e queste c west coast sta arrivando monti iron per un saluto iron io si ma qua mi so con la testa un saluto ciao fratelli aspetta sbassati un fiato ciao fratelli vi stimo alla prossima dateci di brutto boh vai a evo cavate via che monti due segni mostrani i segni gangsta vai monti questa è una w e questa è una c che significhare west coast poi questa è una e e una c che significa est coast questa è la m di monti e poi c'è questo simbolo qua che adesso non mi sfugge era figa penso e poi c'è questo questi qua ok ti fai vedere i monti normali monti gangsta la differenza col cappellino da no è quello la così è così allora monti normale così monti gangsta è così ok vuoi farci un saluto ciao sono ciao sono monti stiamo continuando a riprendere il 31 marzo uscirà il mio video a pasqua a pasqua uscirà il mio video state connessi no